L'agriturismo rappresenta sicuramente una delle più entusiasmanti opportunità per riscoprire e vivere il territorio rurale nella sua multiforme varietà, fatta di tradizione, di cultura, di sapori antichi. Nel Veneto sono oltre un migliaio di aziende che si propongono con queste caratteristiche e che offrono al turista la possibilità di passare giornate indimenticabili. Tra queste l'agriturismo La Buona Terra, immerso nel verde della campagna padovana in località Cervarese-Santa Croce, rappresenta sicuramente il luogo ideale per rilassarsi e godere di un patrimonio naturale unico. La possibilità inoltre di alloggiare all'interno di un antico casolare, in esalente ai primi dell'Ottocento, rende ancora più affascinante il soggiorno. Noi offriamo anche ospitalità nelle nostre stanze, abbiamo delle stanze bellissime con i vecchi materiali di una volta perché è un fabbricato, un vecchio casale che è stato restaurato, e quindi mattoni e quindi legno, e la trachite che è la pietra tipica dei Colli Ugani. Le nostre stanze sono da doppia, triple a quadruple, tutte con il loro bagno autonomo, l'aria condizionata, tutti i confort del vivere di questo periodo. Offriamo anche insieme all'alloggio la prima colazione, prima colazione sempre a base dei nostri prodotti, con tanta frutta, succhi, torte, cose di questo tipo, e a richiesta diamo anche la cena. Nel periodo estivo, per le persone che di solito si fermano tutta la giornata nella nostra piscina all'aperto, diamo anche un pranzo a buffet, in modo che uno possa stare bene e assaggiare tutti i nostri prodotti. L'azienda agricola rappresenta una piccola realtà a conduzione familiare, indirizzo produttivo e di tipo articolo zootecnico, con una specializzazione nell'allevamento di bovini, suini e animali di bassa corte. Alleviamo oltre ai bovini, alleviamo dei suini, anche questi facciamo sempre lo stesso discorso, li ingrassiamo e poi produciamo, ecco, gran parte produciamo salami e prosciutti. Alle coltivazioni della terra, dal mais marano ai fruttetti all'allevamento degli animali, si accompagna l'attività di ristorazione. Carni ed ortaggi vengono impiegati per la preparazione di piatti semplici, offrendoci l'occasione di poter gustare prodotti tipici della campagna che seguono i criteri della stagionalità. Arrivare da noi è molto semplice. Se prendete l'autostrada, uscite a Grisignano di Zocco, l'autostrada alla Milano-Venezia, in paese a Grisignano c'è l'indicazione per Cervarese-Santa Croce, quando arrivate al nostro paese, che è appunto Cervarese-Santa Croce, chiedete della buona terra e ci conoscono tutti. Se invece venite da Padova, prendete via dei colli, a un certo punto c'è la deviazione per Sacco Longo e fuori del paese di Sacco Longo c'è un cartello grandissimo che indica l'agriturismo. Se arrivate da altre zone, probabilmente è utile che andiate nel nostro sito, che è www.buonaterradio.it Da lì potete scaricare la mappa e arrivare da noi in maniera molto semplice. Grazie a tutti.